Il fine anno per il Braga, come è andato questo 2016? È un anno decisamente positivo. Se penso al mio insediamento un anno fa, diciamo che abbiamo raggiunto traguardi impensabili. E poi il più bel traguardo è stata anche questa sede, finalmente decorosa, calda, lottata di tante stanze, un consiglio di amministrazione che stiamo conducendo è appena rito, assolutamente propositivo. Tante idee, tanta voglia di fare musica per dimostrare che il Braga esiste e sarà durissimo a non resistere a quelli che sono stati gli eventi del terremoto e quant'altro. Purtroppo ha colpito la nostra città. Resterete qui? Sicuramente fino al 31 ottobre resteremo qui, poi vedremo.